Così a caso Così mi resiste in un attimo Ciao Amio, ciao ciao Mi puoi sbloccare su IG Ma se ti ho bloccato evidentemente mi hai scritto qualcosa che non dovevi scrivere Perché non è che blocco le persone a caso Bellissima l'alima No raga quanto brilla Vieni bene il tuo ragazzo giocare a pallone a opera No ma lui gioca in No non è opera Oddio non mi viene È vicino opera In ogni caso non è lui Da qualche parte sì vado a fare un girettino con la Mami Ad Arise al centro commerciale Poi stasera vado a mangiare il sushi sempre con i miei genitori Oggi giornata famiglia E poi ti aspetto da me ospite In discoteca E raga per le disco così scrivetemi su IG Cosa stavo dicendo? Non mi ricordo Sai cosa è successo in Palestina? Ma raga non è che vivo sulla luna Certo che lo so Sei bellissima ma grazie Quanti complimenti oggi Sei fidanzata? Mamma raga ma si sta gelando Cioè non so da voi ma a Milano si gela Soprattutto in camera mia Sto morendo di freddo Sono in gelo unico Non vedo l'ora che accendono i riscaldamenti Se è meglio come va Ma sì Sto un po' meglio Più che altro Non voglio buttare via troppo tempo Stando male Cioè raga E quindi questo In qualche modo Mi tiro su Comunque Ho caricato Adesso Cioè 5 minuti fa Prima di iniziare la live Un video in cui spiego In breve Cioè in breve Cosa ho avuto in sto periodo Quindi se vi vado Dopo andatelo a vedere Qui fa caldissimo Ti invidio Giuro Ti invidio Troppo Il tuo stesso cognome Ma che cavolo Nella prossima Non è giocata Sì dalle 21 alle 22 E allora era lui Ma che ansia Raga Julian Di Giuseppe Grazie Aldo Che mi hai seguita Ma pure un mal di pancia Ce l'ho tutto io Prof ma dove sei finita Sono tornata Sono tornata Ragazzi Tranquilli Sono tornata Sono tornata Che mal di pancia Primo giorno di ciclo Cioè aiuto Voglio morire Ma in tutto ciò Mia mamma Che fine ha fatto Boh Lo sto aspettando Da non so quanto Non si muove Come stas Che bello raga Che bello raga Ho fan spagnoli Bien Bien Ma perché stanno entrando Gente spagnola Gente spagnola Eri a Dubai Ti vedo su youtube Ti vedo su youtube Elie Resta hermosa Grazie No secondo me Mi state tirando in mezzo Siete italiani Ma scrivete in spagnolo Parli in corsivo No raga Basta corsivo Ormai il corsivo Fa parte del passato Sei bellissima Grazie Ti sei rotta del corsivo Ammetti Sì sì raga Io l'ammetto Sono rotta del corsivo Cioè voglio proprio dare Una svolta Basta Corsivo Basta Cioè ora Direi che è arrivato il momento Per farmi conoscere Per chi sono realmente Cioè non solo Per il corsivo Ecco l'arrivata mia mamma Credo Ma Sì è arrivata C'è ancora fidanzata Sì 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 Aspettate che metto Via la lima Grazie Lalla Che mi hai seguito Ho visto il video A me è piaciuto tanto Il corsivo Mamma ma con chi stai parlando Ma io Sono in live Sono in live E non dirlo tanto tanto volte Mamma che sono in live Sono in live Comunque quando vuoi ci sono Ma raga che stress Risponde su IG Ma raga ma sapete che mi hanno bloccato i direct Su IG Per una settimana Cioè in realtà adesso sono passati Cinque giorni Quindi ne mancano altri due Però cinque giorni che non posso usare i direct Quindi non li vedo Non posso rispondere C'è un incubo Non so perché Boh Come stai? Bene Bene Sono una persona d'oro Grazie Grazie Cribanana Che mi hai seguita Sei incinta? No tesoro Ho il ciclo Proprio in questo momento Mi è arrivato stanotte Non ho dormito Perché avevo un mal di bancho assurdo Quindi no Non sono incinta Eh già Eh già Voglio vedere una cosa Ti amano tutti Insomma Che fai nulla Tra poco esco E stavo leggendo i commenti sotto l'ultimo video Ho avuto un ciclo potentissimo Stavo merendo Ma raga ma sapete che anche io Cioè io non Il ciclo non ce l'ho mai forte Anche perché prendo la pillola Ma stavolta Cioè sto mese Ho un mal di pancia terribile E ce l'ho fortissimo Cioè Non so perché Boh Può essere anche il cambio della stagione Comunque all'improvviso Ho iniziato a far freddo Non lo so che cavolo c'ho Non lo so Non lo so Inizio mi stavi Antipatica Ho perso il commento Antipatica Un po' seguente Ti ho visto che sei una stupenda persona Grazie Grazie mille Per colpa degli ieter Non fai più live Non è vero Le faccio le live Perché no? Lavori? Sì Sui social Come ti va la vita? Ma insomma Potrebbe andare meglio Ti vedo più robusta Ecco Ci mancava Che sono ingrassata Vai Così Il mio file With my phone Tanto che Non lo fai Ti adoro Grazie mille Lo voglio fare Però sto aspettando Di comprare Il telefono nuovo Mia mamma Ha fatto la finta Di entrare in camera Ed è uscita Robusta Ingrassata Ma raga Perché continuate A scrivervi Ingrassata Cioè Io non mi vedo Così tanto Ingrassata Onestamente Cioè Cioè Raga Non mi vedo Cioè Vabbè Ma ho un po' Di pancettina Perché ho il ciclo Ma Non mi vedo Ingrassata Che telefono Ti compri L'iPhone 15 Pro Max Anche se tutti Dicono Di non prendere L'iPhone 15 Io lo compro Sei bello Anche senza filtro Grazie Riuscire a stiamaggiare Due pizze Non riesco a finirne Una Figurati due Sei bella Ma grazie Perché non ti faccio Più il corsivo Perché non lo sopporto Più Marca Il colore Del rossetto Allora È Una matita Più Una tinta labbra Sempre di NYX Matita Prima ho messo Sto matita Numero Aspetta Sono un po' Impedita Penso sia 12 Sì Sì 12 Questa E sopra Questa tinta Sempre di NYX 36 Los Angeles Si chiama Ed è venuto Questo colorino Molto carino Molto carino Che fondotinta Usi Non uso fondotinta Però Nel testo Mentre Sono struccata Ho solo Le labbra Per il resto Sono struccatissima Non fai più le unghie Sto aspettando Che mi vadano via Le macchie Questa E poi Rinizierò Però non penso più Di fare la ricostruzione Penso di fare Il semi Semi permanente Perché Boh mi hanno un po' Rotto Le unghie Lunghe Ti sei pentita Del tatuaggio Del corsivo No Non me ne sono pentita Perché comunque È stata una cosa Che ha fatto parte Della mia vita Quindi Perché dovrei pentirmene Conosci Lister No Grazie Serena Che mi hai seguita Ma mi leggi Ora sì Una cosa intelligente Il corsivo È intelligentissimo Taglierai anche il sito Per il momento Non penso Però No vabbè In realtà è un discorso Che non posso fare su TikTok Perché altrimenti Mi annano Spiegherò meglio Su IG Come stai? Bene Bene Mi sono ripresa Dopo vado a leggere Un po' meglio I commenti Sotto l'ultimo TikTok Che ho messo Madonna Gilberto Non ha come Ti ha palleggiato Raga Io Gilberto Lo adoro Cioè Gilberto Raga È un personaggio Cioè Come lo vedete Sui social È dal vivo Cioè È una bravissima persona Proprio bravo Bravo Quale sito È bannabile Non lo posso dire Sono andata a seguirti Ora qua su TikTok Grazie Sofia Struccata Stai da Dio Non sto dicendo Che ogni trucco sei brutta Grazie Continuerai a fare Live sui dei Posso farli In costume In costume Un altro vedere Tesoro Ci sono Dieci gradi Penso Direi che non sia il caso Comunque Domenica Questa domenica Che non so che giorno Ossia Il 22 22 ottobre Sarò alla rinascente In Duomo A Milano In vetrina A farmi i capelli Con GHT Quindi Se volete venire a salutarmi Venite Ti arrivano ancora I commenti fake No Non credo Non ci ho fatto caso In realtà Però non penso Sì sì Bianca azzurra In realtà Lo posso dire Però Per chi non è Informato Non sa che cos'è La mia sedia Fa dei rumori strani Io vengo Grande Vai raga Io vi aspetto Se volete venire Sono il rinascente Dalle 16.30 Sì 16.30 Sei in gravidanza No Ho il ciclo La mia canzone preferita Di Tini Allora Ma in realtà Non ne ho una preferita Di Tini Cioè Mi piacciono tutte Se si tratta Di Tini Raga Cioè Tini Tini Mi faccio A sceglierne una Una Ti ho visto Da rete con Alessia Con Alessia 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 Ma ho un po' di mal di testa Sì Ah vabbè ma Mi sa Sì da un botto Che non vedo Alessia Quindi penso Mesi 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 fa Un po' di mal di testa Ma a me Sono un po' Indisposta Per il ciclo Indisposta Ciao mamma Sì Vuoi venire a salutare Al volo in live Sì sì Al volissimo Vieni a salutare Mia mamma E chiude la live Mi cazzo Ti amo Imposa Io morte Siete identiche Molto Sì tantissimo Perfette Sì Va bene raga E dai chiude la live Dobbiamo uscire Vi aspetto Sui G Bene Andatevi al commento E niente Andate a vedere Anche l'ultimo video Grazie